Stop ai resi nell'e-commerce, cioè il consumatore non avrà più la possibilità di rispedire indietro il prodotto che ha acquistato online. E questa è la notizia che sta divampando in questi giorni, ma in realtà è una fake news che quel che sta succedendo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna non può essere contrario alla legge che bigia in Italia e in Europa. Perché per l'appunto una direttiva comunitaria a stabilire che se un consumatore acquista un prodotto online ha il diritto di restituirlo entro 14 giorni, gratuitamente resteranno a suo carico soltanto i costi per la restituzione postale. E invece le grandi company dell'e-commerce che prima ci hanno seduto con questi messaggi di fiducia non preoccupatevi potrete sempre restituire, adesso stanno cercando di mettere un freno al reso compulsivo. E io sono d'accordo ma soltanto in parte perché è vero che dobbiamo fermare quei consumatori che se ne approfittano non so, acquistano un prodotto, lo utilizzano e poi lo rendono, sì c'è anche gente che fa queste cose. Oppure che fa il cosiddetto bracketing, cioè si compra tre prodotti di tre diverse taglie per essere certo di prendere la taglia giusta e le altre due le va a restituire. Questo rappresenta un costo non soltanto per le grandi piattaforme ma soprattutto per l'ambiente. Sono camion che vanno avanti, indietro, packaging che si spreca di qua e di là. Ma al di fuori di questi casi, per i quali invito i consumatori a darsi una regolata, il diritto riesce a essere una grande tutela perché se ci pensate bene noi non possiamo toccare con mano il prodotto che acquistiamo online, quindi non abbiamo certezza che sia effettivamente quello che avevamo in testa.